Buongiorno, sono Flavio Naggi della DITTAF FITAL SPA, divisione Pro Audio FITAL PRO e siamo al Frankfurt Pro Light & Sound Music Messe anche quest'anno a presentare dei nuovi prodotti che rappresentano un concentrato di tecnologia dal nostro dipartimento tecnico. Abbiamo deciso di esporre gli ultimi sviluppi nelle basse frequenze, bassissime frequenze e nelle altissime frequenze. Decisamente la nuovissima introduzione di un 18 pollici con bobina da 4 pollici un'escursione molto lunga che arriva ad avere picco picco un displacement meccanico di 72 mm e una bobina con avvolgimento alto 45 garantiscono riproduzioni a basse frequenze molto elevate e molto performanti, molto efficienti. È un'innovazione in quanto la bobina è molto ristretta come diametro rispetto alle sue performance e permetterà sicuramente agli utilizzatori di innovare molto i propri prodotti per le bassissime frequenze. Poi ci possiamo spostare verso i prodotti per le alte frequenze. Quest'anno abbiamo deciso di presentare il risultato dello sviluppo di un nuovo strumento di progettazione che è stato studiato tra il nostro Dipartimento Tecnico e l'Università di Ancona. Questo ci ha permesso di ottimizzare l'accoppiamento meccanico tra il rifasatore e il diaframma responsabile per la riproduzione delle alte frequenze e soprattutto il progetto meccanico di assemblaggio per rendere i driver sempre più simili tra loro e soprattutto assolutamente costanti nelle performance nel tempo. Sicuramente queste due applicazioni rappresentano la maggior parte degli investimenti fatti nello sviluppo di FITAL negli ultimi due anni e mezzo, tre anni di lavoro e siamo molto felici di presentare il risultato in quanto siamo sicuri dell'efficacia sul mercato di questi nuovi prodotti. FITAL è sul mercato da più di 50 anni, sempre nella produzione e nella vendita di altoparlanti per una serie di utilizzi diversi. Abbiamo nella storia servito mercati vari tra cui i sistemi per le auto di primo impianto, sistemi televisivi e hi-fi e ultimamente negli ultimi 5-6 anni siamo riusciti a introdurre una nona linea di prodotti, appunto FITAL PRO per il mercato audio professionale. Credo che la più grande capacità di FITAL sia assolutamente di soddisfare le richieste più varie dei nostri clienti OEM, ovvero coloro che richiedono una pesante elaborazione e personalizzazione dei prodotti in quanto è un po' scritto nel nostro DNA storico.